Finito il weekend pasquale per i Ferragnez, sono rientrati a casa, dove la piccola Vitto mangia molto. Siamo tornati a casa. Come va amore? Vitto è raggiata. Hai mangiato come un porcellino patata. C'è qua, guarda. Chi è? Chi sono queste conigliette? Sei tu? Chi è amore? Era Vitto, sei tu! Leone lo vediamo molto meglio, la febbre sta passando e la piccola Vittoria fa la porcellina vuole sempre mangiare ed è piena di cioccolata in viso.